Renzi ha internato la speranza di questo paese che non ne poteva più, ha internato la speranza. Adesso però la deve concretizzare. Adesso, adesso no, la deve riempire di potere. Io sono sicuro che... E chi prende il 40% è il paese, non è un pezzo di paese, è il paese. La deve concretizzare.